Aver riparato una buca in strada gli costerà carissimo per l'esattezza 622 euro di multa che diventeranno 882 se non pagherà entro 5 giorni, oltre all'obbligo di ripristinare la fossa. La polizia locale di Barlassina ha multato un pensionato attivo su Facebook con un gruppo dallo stesso creato dedicato alle segnalazioni di disagi, sporcizie e problemi sul territorio comunale. Aveva chiesto di sistemare la buca situata su un passaggio pedonale tra Viale Trieste e via Montesanto, ma vedendo che nessuno interveniva, ha rimediato di persona, con mezzo sacco di bitume e 10 minuti di lavoro, documentando il tutto via social. Poi l'amara sorpresa. Al pensionato è arrivato a caso un verbale di violazione al codice della strada, contestato dall'articolo 21,1 ha eseguito opere sulla strada comunale senza avere né il titolo né la competenza per farlo, a permettere agli agenti di scoprirlo proprio la sua autodenuncia sul web. Dunque, sanzione salata, anche se si tratta della somma minima prevista per questo tipo di violazione, è obbligo di rimuovere le opere abusive, ovvero togliere il rattoppo. Il 72enne preannuncia battaglia. A questo punto ufficializzerò la mia denuncia nei confronti della Polizia Municipale e dell'Amministrazione Comunale per omissione d'atti d'ufficio, scrive sul suo gruppo Facebook. Non ce l'ha fatta Elisa Mazzucchelli, 27 anni, è morta all'ospedale Niguarda di Milano, dove giovedì sera era stata portata in ambulanza, in codice rosso, dopo un terribile incidente avvenuto a Bovisio Masciago, la ragazza residente a Cislago, in provincia di Varese, ex studentessa dell'ITAS di Limbiate, era in sella a una Honda CBR guidata dal fidanzato un coetaneo di Desio. Lungo la Monza Saronno la moto si è scontrata con un'auto, un impatto violentissimo, i due sono caduti rovinosamente sull'asfalto. Entrambi sono stati ricoverati, lei, come detto al Niguarda, lui all'ospedale di Circolo di Varese. Purtroppo i traumi riportati dalla 27enne sono rivelati troppo gravi. La giovane è morta dopo tre giorni in ospedale. Ha i carabinieri della compagnia di Desio il compito di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Bruttissime notizie, la nostra Elisa Mazzucchelli ha avuto un incidente in moto, purtroppo non ce l'ha fatta, non ci sono parole, solo un dolore profondo. Si legge in un posto di cordoglio da parte degli ex alunni dell'Istituto Scolastico Brianzolo. Numerosi messaggi di ricordo sui social network. Coinvolge anche Monza e la Brianza la maxi-operazione maestrale Cartago condotta dai carabinieri di Vivo Valencia e coordinata dalla procura distrettuale antimafia guidata da Nicola Gratteri. I militari dell'arma di Monza hanno arrestato per associazioni di tipo mafioso un 48enne e un 47enne, nati a Vivo Valencia e residenti rispettivamente a Biassono e Monza. 61 in tutto le persone finite in manette, appartenenti alle principali famiglie andranghetiste della provincia vibonese. 167 quelle indagate. Sono ritenute responsabili in concorso e a vario titolo di associazione per delinquere di tipo mafioso, scambio elettorale politico mafioso, violazione della normativa sulle armi, traffico di stupefacenti, corruzione, estorsione e recettazione, turbata libertà di incanti, illecita concorrenza con minaccio o violenza e ancora trasferimento fraudolento di valori, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, favoreggiamento personale, procurata in osservanza della pena e falso ideologico. L'attività di indagine ha consentito di mappare, attraverso un poderoso impianto accusatorio, la geografia della criminalità organizzata in cinque comuni del vibonese, ricostruendo ruoli, compiti e dinamiche dei capi, promotori, organizzatori e partecipi delle associazioni mafiose, evidenziando la loro forte vocazione economico-imprenditoriale e la capacità di intessere fluidi rapporti con colletti bianchi, esponenti politici e rappresentanti delle pubbliche amministrazioni. Sono state sequestrate nel corso delle attività numerose armi, tra cui fucili, pistole, molte delle quali con matricola brasa e un kalashnikov, nonché un ingente quantitativo di munizioni di vario calibro. I firmati sono stati associati in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria. Una folle fuga, in alcuni tratti contromano e rischiando di investire i pedoni, conclusa in una strada senza uscita. I carabinieri sono riusciti a identificare l'uomo che, dopo una pericolosa corsa tra le strade della Brianza, aveva fatto perdere le proprie tracce. Si tratta di un 34enne di origini marocchine, pluri pregiudicato per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. I fatti sono accaduti lunedì. L'auto, un Audi A3, non si è fermato a un controllo a Correzzana. È fuggita e inseguita dai carabinieri per oltre 30 chilometri. Più volte ha rischiato di investire pedoni o di finire contro altre vetture. Addirittura in piazza Mazzini e a Casatenovo ha quasi travolto una pattuglia della polizia locale che ha tentato di fermarlo. La sua corsa si è conclusa a Besana, in Brianza, dopo aver imboccato una strada a fondo cieco, bloccata da due dissuasori stradali in pietra. L'automobilista ha abbandonato il mezzo e ha proseguito la fuga a piedi, facendo perdere le sue tracce nella boscaglia. Gli accertamenti eseguiti dai carabinieri dopo il ritrovamento dell'auto hanno permesso di identificare il 34enne e di raccogliere gravi e concordanti indizi di colpevolezza nei suoi confronti. È stato denunciato per resistenza pubblico ufficiale e sanzionato per guida senza patente. Nel corso della prequisizione effettuata sull'auto, alla presenza dell'indagine del suo avvocato, sono state trovate tracce di cocaina che, alla luce dei precedenti penali, lasciano pensare con tutta probabilità che la fuga possa essere stata determinata proprio dalla presenza di un maggiore quantitativo di quello stupefacente. Avrebbe prestato soldi con un interesse del 190% annuo. La Guardia di Finanza ha sequestrato denaro contante Rolex a un 49enne pregiudicato residente in provincia, accusato di essere un usuraio. L'indagine è stata coordinata dalla procura e condotta dai militari del gruppo di Monza. Accertamenti patrimoniali, attività di osservazione e il monitoraggio dei social network hanno evidenziato che l'uomo conduceva uno stile di vita assolutamente sproporzionato rispetto a quanto ufficialmente dichiarato al fisco. Risultava nulla tenente, ma aveva autovetture di grossa cilindrata e beni di lusso. Non solo, il 49enne versava frequentemente denaro contante e accedeva spesso a una cassetta di sicurezza in banca. Secondo quanto ricostruito dalle fiamme gialle, l'uomo avrebbe prestato 45 mila euro a un commercialista brianzolo, ottenendo indietro in due anni, a solo titolo di interesse, circa 73 mila euro, un tasso di quasi il 190% annuo. Sul provvedimento dell'autorità giudiziaria, i finanzieri hanno sottoposto a sequestro preventivo d'urgenza denaro contante per 130 mila euro e 7 Rolex, dal valore totale stimato di oltre 95 mila euro. L'azione di servizio, spiega la Guardia di Finanza di Monza, costituisce un'ulteriore testimonianza del costante presidio assicurato dal corpo per contrastare l'usura, odiosa pratica criminale che permette di ottenere ingenti guadagni sfruttando lo stato di bisogno di soggetti in grave difficoltà. Sollecitata dai sanitari e dalle forze dell'ordine ad indossare la mascherina, dà in escandescenze e morde un agente di polizia. È successo all'ospedale San Gerardo di Monza. La donna, 66enne milanese ma residente a Monza, aveva accompagnato un uomo di 81 anni ad effettuare un prelievo ematico. Invitata dai medici ad indossare la mascherina, come previsto dalla normativa vigente, ha cominciato ad inveire contro il personale sanitario, affermando di non avere l'obbligo di utilizzare il dispositivo, essendo terminata la pandemia. I sanitari hanno quindi chiesto alla donna di allontanarsi dal reparto, ottenendo però nuovi insulti e rendendo necessario l'intervento della polizia. La 66enne ha riferito agli agenti della questura di Monza di essere stata allontanata bruscamente dai medici. medici, che a suo dire, farebbero parte di una dittatura sanitaria imposta dal governo. Ma la donna comincia a dare innescandescenze quando i poliziotti le chiedono i documenti. Cerca di andarsene trascinando con sé l'81enne con visibili difficoltà di ambulatorie e comincia a mordere le dita delle mani della gente che tenta di calmarla e tenerla ferma. Solo con l'arrivo di una seconda volante, i poliziotti sono riusciti a smorzare l'ira e l'aggressività della donna, ma non le sue posizioni complottiste. La 66enne non ha infatti voluto farsi visitare dai medici del pronto soccorso perché, secondo lei, complici del complotto organizzato su spese. Il poliziotto Morso ha riportato numerose lacerazioni alle dita ed è stato quindi medicato. La 66enne è stata arrestata per violenza, lesioni, oltraggio, minacce e resistenza pubblico ufficiale. Sono sempre di più le province italiane in cui il numero delle pensioni supera quello degli occupati. È un quadro allarmante quello che evidenzia il sole 24 ore. In ben 39 province italiane, pari al 37% del totale e nell'82% dei casi situati al sud, il rapporto tra lavoratori attivi e pensionati è negativo, mettendo a serio rischio la tenuta del sistema pensionistico attuale. In questo trend, però, non rientra la provincia di Monza e Brianza, che al contrario mostra numeri da record in Italia. Su 100 pensionati sono 146 lavoratori attivi. Si tratta del miglior risultato in Lombardia davanti a Brescia e Lodi, il quarto a livello nazionale dietro soltanto alle province di Bolzano, Prato e Trento, considerando che la media italiana si assesta a 111 lavoratori attivi ogni 100 pensionati. La ripresa post-Covid ha fatto registrare un importante aumento dell'occupazione in Italia, toccando quota 23 milioni di lavoratori totali, livelli mai raggiunti da quando vennero avviate le registrazioni mensili nel 2004. Ma tale crescita non è comunque sufficiente per garantire la tenuta dell'equilibrio. L'invecchiamento generale della popolazione, i tassi di natalità sempre più bassi e i prepensionamenti restano fattori con statistiche preoccupanti, rischiando di abbassare sempre di più il rapporto tra lavoratori e pensionati. La provincia di Monza e Brianza viene sostenuta anche da altri numeri incoraggianti. Secondo Confartigianato, nel 2022 sono stati registrati 394 mila occupati, più 7% rispetto ai due anni precedenti, posizionandosi al 37esimo posto in Italia, mentre le imprese hanno fatto registrare un tasso di crescita trimestrale pari al 10%, in positivo rispetto al trend complessivamente negativo delle altre province lombarde. Contano anche i numeri demografici. Nel 2022 il tasso di crescita è stato pari a 1,3 per 1.000 abitanti contro il meno 3 nazionale, il saldo migratorio totale è stato pari a 5 per 1.000 abitanti contro il 2,4 nazionale, e anche il rapporto tra tasso di mortalità e natalità, pur in negativo con un meno 3,7 per 1.000 abitanti, resta leggermente migliore rispetto al meno 5,4 per 1.000 abitanti registrato in tutta Italia. Passo importante per il rilancio del Parco di Monza. L'Agenzia del Demanio ha consegnato al Consorzio Villa Reale la gestione di due importanti immobili, Villa Mirabellino e Cascina Milano. Le condizioni sono state individuate al termine di una serie di verifiche e approfondimenti svolti negli ultimi mesi. Il Consorzio sarà tenuto alla conservazione, al recupero e alla valorizzazione dei due beni. Fino a pochi giorni fa era stato il Demanio a curarne la manutenzione. A Villa Mirabellino erano già stati effettuati degli interventi, il rifacimento delle coperture, il servizio di guardiania, la salvaguardia delle finestre. Ora toccherà al Consorzio continuare l'opera. La firma dell'addendum di consegna si è tenuta nella sede milanese dell'Agenzia insieme a tutte le autorità coinvolte, alle quali il sindaco ha espresso il vivo ringraziamento per il prezioso contributo al riordino documentale che è stato necessario per giungere all'importante atto. Si tratta di un altro passo verso una sempre più completa gestione dei beni presenti nel parco, spiega Pilotto, che necessita di un paziente, lavoro di riconnessione finalizzato al progressivo recupero e all'utilizzo di tutti gli edifici presenti nel parco. Se il senso del Consorzio è quello di consentire alla regia del presente e del futuro di Villa Reale e del parco partendo dal territorio, continua il primo cittadino, un principio di responsabilità ci obbliga ad individuare le migliori soluzioni per gestire al meglio questo prezioso patrimonio. Grande soddisfazione viene espressa anche dal direttore regionale dell'Agenzia del Demanio, Massimiliano Iannelli, per l'importante traguardo raggiunto. Villa Mirabellino e Cascina Milano continueranno, come per altre porzioni della Villa Reale, a rimanere di proprietà dello Stato, spiega, ma saranno oggetto di un intervento complessivo di valorizzazione che sarà condotto dal Consorzio con il supporto e sotto legida del Ministero della Cultura. Villa Mirabellino fu edificata nel 1776 dall'architetto Giulio Galliori, su committenza del Cardinale Angelo Maria Durini, per alloggiarvi invitati al suo cenacolo letterario. Era utilizzata anche per semplici cene nelle serate estive, in cui il Cardinale amava conversare con gli amici. Cascina Milano, indicata anche come rustico del Mirabellino, fu edificata successivamente, prima utilizzata come ambiente di servizio, ospitò poi l'archivio e la biblioteca riguardante la storia del sindacato e del mondo del lavoro della Fondazione Seveso. Prima di Milano, la capitale internazionale del design fu Monza, un convegno celebra i cent'anni dalla creazione in città della Mostra Biennale Internazionale di Arti Decorative, ma soprattutto prova a mettere le basi per il ritorno a Monza dell'ISIA, Istituto Superiore per le Industrie Artistiche, a organizzare l'evento in programma il 19 maggio alla Reggia. Il Comune di Monza e il Consorzio Villa Reale, in collaborazione con Triennale Milano e Società Umanitaria. È un'idea che alleggia sulla città, almeno dal primo dopoguerra, e che però di fatto non si è mai concretizzata. L'obiettivo del convegno, giusto appunto, è quello di portare al tavolo quante più personalità e sferti possibili che possano portare la propria esperienza e indicarci anche una strada per verificare la fattibilità del progetto e chiaramente l'obiettivo sarebbe proprio quello. Credo fortemente che un istituto di questo tipo può essere veramente un po' di riferimento non solamente per Milano ma anche per l'Abrianza. Monza si pone come città di cerniera fra queste due realtà produttive, economiche, molto differenti e non a caso cent'anni fa venne istituito proprio qua il primo ISIA ma le stesse caratteristiche di allora sono le stesse che disegnano anche un'eventuale nostra valorizzazione in questo senso. L'ISIA di Monza troverebbe spazio, questa è l'ipotesi del Comune, all'interno del complesso ex borsa che presto sarà completamente ristrutturato. L'istituto fu fondamentale per lo sviluppo del settore del design in Italia. Gli ISIA sono delle facoltà universitarie a numero chiuso, numeri molto molto ristretti, dotate di laboratori e quindi molto legate al cambiare del momento e con dei docenti, tutti dei professionisti dei diversi settori e quindi con un rapporto molto stretto tra la realtà esterna e la formazione degli studenti. A Monza l'ISIA apre le sue porte nel 23, a novembre, ad anticipare la riforma gentile e si caratterizza per una vivacità incredibile e con la presenza di studenti che vengono non soltanto dal nostro contesto ma da luoghi dell'Italia molto lontani, molti docenti importanti che hanno insegnato in questo ISIA che ha chiuso i battenti poi nel 40 per la guerra e nel 28 ospita questa sezione dedicata alle fanciulle, dedicata al tessile, che ha dato un grande contributo a questa progettualità italiana con queste due svedesi, l'Anna Ackerdahl, che era la moglie di Balsamo Stella, allora diretture, e l'Aino Celveran, altra svedese, e con questa Anita Pugelli, ricammatrice, che sto affannosamente cercando. Comincia ufficialmente una nuova fase per lo storico centro civico Libertab di Monza, dove sabato scorso si è assistito alla cerimonia di inaugurazione del nuovo Liber Bar. Un nome, quello del bar della struttura, emerso da più di un centinaio di proposte presentate dai cittadini in un contest promosso da Vivenda e dalla cooperativa sociale Mediospes, responsabili della gestione del centro. Con lo svelamento delle nuove insegne e un aperitivo offerto ai tanti partecipanti accorsi all'inaugurazione in un clima di grande festa, si è dato così il via al nuovo corso del centro civico, con un ampliamento dell'offerta di attività nella struttura, destinata a diventare sempre di più un punto di riferimento, di aggregazione e di inclusione per tutta la cittadinanza, con un focus particolare per giovani e fasce deboli della città. Ormai da qualche mese il centro civico Libertab è gestito da due cooperative che fanno parte di un unico consorzio, sono la cooperativa Mediospes e la cooperativa Vivenda. Mediospes si occupa di sociale e quindi dedicherà la sua energia, la sua attenzione a tutte le attività che metteremo in campo all'interno del centro civico, insieme sia ai nostri professionisti, sia a tutte le realtà territoriali che già da tempo collaborano realizzando eventi, corsi e quant'altro all'interno del centro civico. Vivenda invece si occupa di ristorazioni e quindi gestirà tutta la parte bar, quindi apericene, soprattutto nel weekend, visione di partite con buffet e feste compleanni e quant'altro. Sicuramente ci concentreremo su tante attività per i bambini ma anche per gli anziani che frequentano tutti i pomeriggi il nostro centro civico. Faremo corsi anche di formazione, faremo corsi come la ginnastica dolce, come lo zumba, insieme alle insegnanti e ci concentreremo anche su tematiche sociali. Per esempio abbiamo in programma per giugno degli incontri insieme alla polizia locale per contrastare le truffe agli anziani. Grazie. 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 Grazie.